macchina intanto che va in accelerazione spettamente discosto Farnese Fonte macchina che stacca partiti e si accende subito la lotta per il comando con Philip Rock che sta superando il Nigno che a sua volta sopravanza Drago Jet primi 200 violentissimi con Philip Rock al comando 12 e 7 per il lancio e il Nigno in seconda posizione poi Drago Jet quarta posizione alla corda per Helekode mentre c'è stata la rottura di Gornif squalificato 400 che se ne vanno in 27 appena abbondante sposta e il Nigno va all'attacco di Philip Rock che sembra concedere strada dopo 500 metri e il Nigno leader Philip Rock in seconda posizione più indietro di un paio di lunghezze segue Drago Jet mentre percorsi esterne avanza Felix del Nord la terza ruota per ambassadora S intanto 42 secchi i primi 600 il Nigno affronta al comando la penultima curva si avvicina comunque Felix del Nord 800 in 57 e 7 è il Nigno leader su Philip Rock poi in terza posizione Drago Jet percorsie esterne continua la corsa di Felix intanto il chilometro in 1 11 e 9 si viaggia veramente a grande andatura con Felix del Nord che appareglia completamente Philip Rock il Nigno comunque si mantiene una lunghezza avanti gli avversari gli altri non riescono per il momento a inserirsi con Drago Jet sempre in quarta posizione la frazione in 14 per arrivare ai tre quarti di miglio metà dell'ultima curva con Felix che va deciso ora su il Nigno lo sottopone a nuovo durissimo attacco Felix del Nord ed il Nigno alle prese a 100 dal palo con Philip Rock più indietro e il Nigno cerca ancora la difesa Felix del Nord insiste nel finale arrivo serrato con Felix che passa nelle ultime battute il secondo posto per il Nigno al terzo Philip Rock si salva dal il Nigno